Nuova bomba gossip su Anna Tatangelo e Livio Cori. Inutile negare che tra loro c'è stata una grossa crisi e tutti i maggiori siti avevano dato per certa la fine della relazione sentimentale. In particolare, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbe chiesto questo, i patti sono chiari, ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì. Andiamo a vedere insieme che cosa è accaduto nelle scorse ore e che tipo di rapporto ci sarebbe adesso tra i due protagonisti della musica. Ecco quanto scritto da diva e donna, Anna Tatangelo e Livio Cori, ma quale crisi, luna di miele a Napoli. Tanto che qualcuno aveva parlato di una crisi e di una rottura. E invece, in questa immagine, parte di un servizio più ampio che potete trovare sul numero di diva e donna in edicola questa settimana, ecco Anna e Livio di nuovo insieme a Napoli ed è stato rivelato anche il luogo preciso dell'incontro. Infine, è stato riportato, Anna e Livio di nuovo insieme a Napoli, dove sono stati a casa di lui. Poi Anna è tornata a Roma dal figlio Andrea Vuto con Gigi D'Alessio.